Questo è, come veniva ricordato dal sindaco Casini, anche il risultato del dialogo. Guardate, non sono parole vuote, sembra strano, ma le cose succedano perché c'è una condivisione di intenti, c'è un rapporto dialettico, di relazione, perché senza questo rapporto è difficile pensare di fare opere così importanti. Noi in Toscana stiamo investendo moltissimo, stiamo impattando anche moltissimo sui cittadini, questo ce ne rendiamo conto. I tratti che noi andiamo ad aprire oggi è un tratto importantissimo, partiremo con il lotto 2, finite le vacanze, quindi il cantiere sarà un cantiere continuo, poi dovremo completare anche il tratto a sud dell'area di servizio di Chianti. Con gli interventi che prevediamo in Toscana, ricordo sempre, noi abbiamo una previsione di 3 miliardi, 3 miliardi e 9 gli interventi. I due tratti importanti sono ovviamente tutto il completamento fino all'incisa e poi la realizzazione e l'avvio dell'incisa a Baldardo. E l'altro tratto di assoluta rilevanza per il sistema, non solo regionale, ma per il sistema paese, è la realizzazione del tratto Firenze-Pistoia, con la possibilità di poter iniziare i primi lotti già a partire da settembre, settembre-ottobre, qualora avessimo l'autorizzazione da parte del Ministero. Questi sono tratti, come venivano ricordati, dove non passa solo la viabilità regionale, ma passa la viabilità del sistema paese. Ogni tanto ricordo ai miei collaboratori che qualora non fossimo riusciti a completare la variante di Valico, oggi avremo un problema strutturale per il sistema paese. Questo vale per molte altre opere, quindi credo che ognuno di voi possa fare mente locale su quanto sia importante realizzare per tempo.